Musica Cari amici Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Dove siamo diretti oggi? Allora abbiamo appoggiato la roba un pochino meglio Di prima leggiamo Velocemente qual è il terzo luogo Per il terzo lapislazuli Sii lapislazuli blu Allora dobbiamo andare in un villaggio Chiamato Windburn Che c'è ci siamo già stati a Windburn Tipo quale? Windburn ok Ci siamo già stati mi sembra infatti Allora Non so perché mi sono fermato qui C'è gente un pochino strana che mangia la carne di zombie Ogni giorno e puzza di Polvere da sparo Stanno usando esplosivi? Boh Allora sotto la loro cosiddetta chiesa Ho trovato un'incredibile scoperta Non vi annoierò scrivendolo adesso Un visitatore deve vedere solo da solo Le parole sulla carta non lo scriverebbero abbastanza bene Ma e che cos'è? Ok ho lasciato un altro pezzo Lì in quel posto E andiamo a scoprire C'è Death Dan Perché sei uscito Perché è uscito Death Dan? Non lo so L'abbiamo fatto uscire E pazienza Allora si parte Ma poveraccio Ma poveraccio In Death Dan era fantastico Ci hanno fatto un sacco di remix Sopra Death Dan Ah vabbè Ok che città siamo? Allora Uh siamo già arrivati Ah la chiesa C'è una chiesa qui Ah che schifo Anche perché c'era lunch time C'era tutta questa Ah loro mangiano carne di zombie Perché stiamo a giacare i zombie? Avete il grano Coltivate il grano Sei sciumido sei Siete sciumidi La casa La in E questo Oddio Che? È da qui che c'era il cane Che andava messo a dormire Ah il cane Il cane Come si faceva più ti ricordi? Sì aveva Tutti quanti concordavano Sul fatto che andrebbe fatto fuori Vieni qua Cagnaccio Poverino Mangiati la bistecca Ma poverino Che c'è? Non lo volevo uccidere Mi ha dato la bistecca Non lo volevo Mi dà i cuoricini Ma non Perché potrebbe accoppiarsi Credo in teoria Vuole che lo mettiamo A dormire Ma non dorme No facciamolo stare Non li voglio quei soldi lì Perché cos'è che davano più? Danno una patata marcia No ci porta male Non lo voglio la patata marcia Allora La chiesa è questa Bene Siamo nella chiesa Dov'è la loro chiesa? Specie? Questa? Dove sei? Qua Siamo già stati qui Sì c'erano già stati Non c'era nulla È una chiesa questa? Sì ti ricordi Siamo stati Non mi ricordo L'abbiamo già Depredata E dov'è? Sotto aveva detto Ha detto sotto Ma finisce qualche? Non andava lì C'è un coso di là Dove? No Si è caduto da sopra Lo spingiti ma si è caduto da sopra Che sia qua sotto Qui sotto dove? No qui c'era un cartello stupido Con scritto Con scritto Questa mappa Dove Questa città Dove essere chiamata Sex town Sex town Perché la gente mangia carne di zombie È gente Oh aspetta Un questo Questo Non è che Poi guarda che è con l'osso Prima lo faccio innamorare Poi gli do un osso in testa Magari stai dormendo Ora che ti sei innamorato Eh ti posso dare un osso? Non gli vuole gli os Non vuole Ma ha mangiato le bistecche Però Quelle si ma senti Io Cosa hai fatto? Mi ha colpito Si sono quelli che sono cattivi Ti odio Ti odio Cane Sei antipatico Io gli rubo il grano A questi crepini No non puoi Si posso La porta è aperta Allora tanto mangio la carne di zombie Ma non puoi Io mangio la carne di zombie Vabbè io cerco cosa c'è qui dentro Allora Nella Ma non c'è trovato niente Ma c'era anche messo l'acqua Sti citrulli Eh Mi chiedo Ce l'hai le chiavi? Porta un po' una chiave Una chiave? Hai trovato qualcosa interessante? Magari Magari è solo di architettonico Ma tu prova Sai che questi blocchi vogliono dire Ti vedessi? No Brava Sai che questi blocchi vogliono dire Negli altri casi Che c'era qualcosa? Prova a metterlo per terra Magari no Ma tu prova Mamma mia per un pelo Che c'è? No Cosa c'è? Praticanti? Che posto è? Sotto la chiave Un tiziano Un enorme tiziano Che posto gigante Ciao tiziano Posso buttarti di sotto? E più di tiziani C'è un milione tiziani Si difendono bene Scendiamo giù E da dove si scende? Dalle scale magari Tiziano Ma guarda che posto Sotto la chiesa c'è uno slime Cos'è uno slime? Si Vabbè lascio C'è scritto qualcosa È una specie di cappella È la cappella secondo loro Allora C'è un coso d'acqua laggiù Difeso dai tiziani Exit Exit C'è di quale uscita Ma io non voglio uscire Allora cammina attraverso La prova della Di questo qui Vabbè insomma Cammina attraverso la prova di che? Quella fare lì E io vado Aspetta arrivo Aspettami Aspettami Cos'è? Aspetta Vai Del pentimento Purificati Purificare e brucia Se fossi una birch Sarai purificato Ma non sono una birch No non c'è fuoco Mi dispiace per te Vabbè C'è uno spawner Di No Cosa di no Di trigger Ma cos'è No Occhio Aia Vai via Vai via 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 Ecco perché puzzano Di povero sparo Che posto è Cos'è È un È una specie È un danno il tablo In miniatura Cos'è Non è che uno qui Esce purificato Non esce affatto Aiuto Ok Dammi Ma come gli è venuto in mente Aiuto Come gli è venuto In mente Tu hai delle torce Io ho delle Sì ho capito Ma penso che sia più da Da muo Occhio Occhio Sono messo male Corri amore Amore Corri Corri Non fregartene di niente No Non sto molto bene Neanche io Non sto molto bene Aiuto No No Il cosa no Lui no 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 Proteggimi Ci si fa il possibile Sto mezzo qua Uccidimi Lo schereto Lo schereto Così amore Corri Mi stai seguendo No lasciali sferdere C'è qualcosa qua C'era dell'acqua Ma dove sei Ho visto la fine del tunnel Io ho trovato questo Il labislazzuli Il labislazzuli Dov'era? E' qui In fondo al tunnel E alla fine che ci sarà? Caparezza Ma Allora Abbiamo trovato Il terzo labislazzuli Ma alla fine del tunnel Cosa c'era? C'è questo Ma ci sei arrivato tu Allora Uuuu Ahia Sì oggi Perché tu sei morta di nuovo Stavo per morire Ma ce l'ho arrivata anch'io Cioè tu stavi correndo dal lato sbagliato Stavi tornando indietro Secondo me Ma no Se l'aveste arrivata tu Al posto mio qui Ma ci stavo arrivando Sono morta un momento Noo Guardando l'handman Scusa l'handman No Ma Ma tutte le cose che devo pensare Ah Ma cosa Dai Leviamo le castagne dal fuoco Ahia Occhio l'handman Di stam Oh Dimmi che c'ho l'ho lento in pilla No Bene Allora Dobbiamo uscire E si esce da qua giù Bene Dov'è qua giù? Qua giù C'ha un tiziano No 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 Sai quanti tiziani ci sono? Ah C'è scritto L'avevo seguito prima Segue i cartelli I cartelli Segui il cartelli Vieni qua Ah ciao Buongiorno Bene abbiamo trovato Sono stato abbastanza facile Cioè facile Da virgolette È stato facile perché C'è un pene Non sono morto Cioè alla fine Mi lamento Ma sicuro che non ci fosse Nient'altro da guardare Più di questo Stiamo cercando i lapislazzuli Quindi non credo A me l'altra volta Stiamo cercando i lapislazzuli Ma c'era un coso No Ho finito il giro Non c'era nient'altro E siamo usciti Dove siamo? Siamo tornati nella chiesa? Qua giù siamo Sai quante testifiche Ci mure hanno Col buco adesso? Dici che è meglio Che se lo chiudiamo? No Vabbè no Sai che poi Ti immagini Lasciamolo aperto Poi torneremo qui Tra un po' Lo troveremo pieno di testifiche No Si è caduto No Mi tipizzo Non posso rifarlo tutto La Ho scritto No No Sto scrivendo Quello sbagliato La Ok Quante volte sei morta? Due volte Bene Dai E anche male Allora Abbiamo trovato il terzo Sono stati abbastanza bravi Stavolta Diamo un'occhiata Subito Al quarto Da che lato Agis Darci un'idea Allora La città di Happen Che quella mi sembra iniziale Dobbiamo tornare laggiù No il Cave City Ti ricordo di troppi fape Una sola puntata Tipo la seconda puntata Di questa serie Interessante Si sta facendo notte Andiamo a casa Una cosa buona Ho trovato Che c'è una Una strong gold Una strong gold Perfetta per nascondere Il mio tesoro No Menti Dato che è notte È un buon momento Andiamo a casa Andiamo Come a casa? A casa nostra A casa nostra E dormiamo Perché dormiamo? Happen è più vicino A dove ci siamo spawnati Che altro A spustare Sì ma siamo Ma noi andiamo a dormire Che sono? Appen 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 Chi appen 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 qua Sì sapevo Ma io non volevo andare in giro di notte Ma cosa vuoi che sia di notte Tanto mica il sole tramonta male Ma non abbiamo neanche sentato allo spawn E non è ancora Eh vabbè Non si dorme mai Non abbiamo mai dormito Non si dorme mai Ah C'è una birch Sì È pieno di birch In questo posto Le birch Le birch Le birch Le birch Che schifo Bucche Ti ricordi Ti ricordi che sei stata prima Alla primo posto di tutti? Sì e io sono entrata in un buco Ancora non posso più uscire Davvero? Sì? Dove sei? È un piccolo eh Dove sei? Un piccolo intervento di forza armata Bravo Dove sei? Qui Ah Mamma mia Tu Questa città ti fa fare un sacco di fail Già a secondi e due secondi C'è qualche problema con questa città Vero? Sì Sì Vi ricordate? Quella puntata secondo noi Ne vale la pena riguardare Quella lì La seconda puntata Una delle mie preferite della serie Ogni tanto la riguardo Tipo Aspetta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora fate finta che stia sorgendo il sole Vieni qua Fai finta Sta sorgendo il sole Vai comincia E fammi la voce per bene Che schifo Sì si agonizza E poi sono contento Ma basta Deve essere qua giù Ma ci sono già stati qua giù E si vede che all'epoca non avevamo le torce Cioè le leve Magari che bel lavoro di lava Che lavoro di lava Ma cosa c'entra le torce? Le leve Le leve Quelle non avevamo ancora Lo so lo so Dove sarà il segreto? Non lo sappiamo Il segreto è che non c'è nessun segreto Qui? Ti ricordi che Che quanti errori avevi fatto in sto puntaccio? Sì sono caduta nella lava anche 8 o 9 volte Massi Vieni giù Vieni sbrigati Cerchiamo di capire Uh se ha senso quello che è Stiamo per fare Oppure no Se esistessi una spinta di luna No magari no Spintarella di luna Spintarella nella lava Questa strada Meno male Uh No una mining station Che bella Che sta cosa ci sarà Incredibile No davvero Un uomo La mining station Che bello Non me ne ricordo queste cose Uh Che qui c'era un cesto nella lava Brava brava Vedo che una cosa su 8 te la ricordi Andiamo Com'è che si andava dal punto E si scendeva giù Ma a me lo chiedi Ti sembra una che si ricorda queste cose Uh non me lo ricordo più No giù c'era un cesto Ma non era dove dovevamo andare Pieno di redstone Che non possiamo prendere Quanti ricordi Questo bel posticino Ah Svegna Gna gna Criperì Criperà Allora mi sembra Che alla fine C'era una stanza Quindi ci sta Che forse C'era una stanza C'era una stanza Molto carina Con un sussitto E un creeper dentro 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 Nel cemento C'è laggiù qualcosa Ok Eravamo arrivati qui già Ah Non laggare Non laggare brava Qui sotto Eravamo entrati qui dentro Entra Ehm Entra Entra Ehm Qui Infatti Ma tu ma Entra Ma dove devo entrare Qui Ah Qui sotto Perché Perché Come perché Ah Chiudi Io non ti vedo neanche Sono qui Come fai a non vedermi Ma dove sono finita In un buco In un buco Brava Oh incredibile Ce la fai uscire No Guarda Abbiamo trovato la pietra Sarà qui Ah E tu devi dirlo subito Allora Uuuu 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 Pfff Aiuto Bene Allora Non vediamo di scoprire La quarta locazione Della pislazione Sì forse Dato che è una strong Non vogliamo che sia una cosa Esageratamente lunga Abbiamo trovato La pislazzuli Anche in questa puntata E poi cercheremo Il prossimo E che si Spari mele Mie miele Eh le sto prendendo No Pisa una Me ne arriva Grazie a tutti Stati con noi In questa puntata Speriamo vi stia Continuando a piacere Questa assurdità Questi non li vuoi No Mangiali No Mi sono arrivati Mi crescono Mi vengono I semini Nel naso Grazie a tutti E alla prossima Con La mistica Ricerca Dei lapislazzuli E gli eterna Ciao Azzvegna Criperi Pereri Criperi Criperi Oh fammi la seconda voce tu Azzvegna Nga nga Ma non così Ma Basta Tu ti 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 Azzvegna 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 Azzvegna